Benvenuti amici di Lombardia Notizie Online per questo nostro nuovo approfondimento. Oggi, lo sappiamo, venerdì santo, venerdì dimagro, quindi chi osserva la religione cattolica sa che non può mangiare carne, o anzi meglio, dovrebbe astenersi dal consumare cibo. Ma noi invece vogliamo parlare del pranzo di Pasqua. Lo facciamo insieme a Cesare Battisti, che è qui accanto a noi, titolare chef del ristorante Aratanà, una persona che ha fatto del prodotto a chilometri zero la sua cifra stilistica. È vero o no, chef? Beh sì, anche perché oramai, come dico un po' a tutti, bisogna che si sappia che Milano è la città più agricola d'Italia, abbiamo più di 40.000 ettari di parco agricolo sud, decine e decine di cascine che producono di tutto, dalla frutta e dalla verdura, riso molto buono, producono anche il grano del distretto agricolo milanese. Per cui ecco, cibo di prossimità vuol dire non solo sicurezza alimentare, vuol dire aiutare l'economia locale e bisogna, spero che sia il futuro questo. A proposito di Pasqua, come tradizione si parla spesso dell'agnello piuttosto che del capretto, ma noi per Pasqua, il vero milanese, che cosa mangiano durante il pranzo pasquale? Sicuramente il vero milanese ha sempre mangiato il capretto. Adesso ci sono un sacco di verdure, aprile è il mese dei piselli, delle fragole, delle fave, degli asparagi, facciamo dei ravioli con asparagi, timo e limone, facciamo dei cavatelli fatti in casa con una crema di piselli freschi, ecco, cibo molto semplice, verdure senza troppe complicazioni. Ma dato che ci saranno persone che andranno a fare la spesa per il famoso pranzo di Pasqua, dovessimo dare un suggerimento per un risottino un po' particolare, stagionale, che cosa potremmo dire loro? Un risotto con gli asparagi, noi lo facciamo, anzi consiglio anche come farlo, risotto con gli asparagi, si tagliano le punte degli asparagi, si scottano appena appena e con il gambo si fa un centrifugato, centrifugato che useremo al posto del brodo per cuocere il riso. Verrà un riso color verde smeraldo con delle punte di asparagi croccanti. Se poi vogliamo profumarlo un po', gli grattiamo sopra un po' di limone, buccio e limone. Grazie allora a Cesare Battisti per questi preziosi consigli, anche a voi che avete voglia magari di regalarvi un risottino particolare per domani. Grazie per averci seguito, continuate a farlo sulla nostra pagina Facebook di Lombardia Notizia Online e sui nostri profili social. Alla prossima e buona Pasqua! Grazie a tutti!